Ora sapevo dove fosse il centro produzione del v2 pensavo di essere indirittura d'arrivo non dovevo fare altro che entrare neutralizzare i tre obiettivi rimasti far saltare tutto in aria e andar via semplice aria 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 Sei non so bravo, non posso venire da qui. Grazie a tutti. Grazie. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.